Hanno saputo dimostrare che spesso sono più bravi di noi a superare i limiti. Così le mamme dell'associazione cresceranno insieme al termine sabato scorso dello spettacolo Seri Seri Chi Buonaventura Veni, portato in scena dai ragazzi speciali dell'associazione. Spettacolo che nemmeno le mamme credevano inizialmente potessero riuscire a realizzare. E invece i quasi 20 diversamente abili dell'associazione sono come sempre riusciti a dimostrare che superare i limiti si può. Anche una singola battuta di mano sul tamborello o la tolleranza ai suoni possono rappresentare un traguardo. E lo hanno raggiunto tutti i componenti speciali del cast dello spettacolo, scritto e diretto pazientemente da Cinzia Sant'Angelo, tutor del CESVOP e volontaria dell'associazione. Quello di Seri Seri Chi Buonaventura Veni è un percorso lungo un anno, partito a novembre scorso con la voglia dell'inclusione di diversamente abili e della scoperta delle tradizioni attraverso il folklore. Così è nato prima il gruppo Liburgisi Special che ha avuto modo di esibirsi con coreografie realizzate da Alessio Turturici durante il Carnevale di Sciacca e ad Agrigento per il Mandorle in Fiore. Poi, al ballo, l'idea di aggiungere la recitazione con la messa in scena del testo teatrale. Un esperimento possibile grazie a Innerville che ha finanziato la realizzazione dei costumi e il prossimo progetto per crescere insieme di musicoterapia con Schenè. Al lavoro sono stati per la realizzazione della scenografia anche ragazze della messa in prova che l'associazione Crescere Insieme da anni generosamente ospita per il percorso rieducativo. Insomma, un progetto che come sempre ha permesso a tutti coloro che si sono avvicinati all'associazione di crescere e di arricchirsi loro per primi.